Quando si perde peso spesso può accadere di perdere l'elasticità della pelle. Fare semplicemente dell'esercizio fisico non restituirà tonicità alla pelle. La soluzione è cercare di perdere peso gradualmente in modo da permettere alla pelle di non stressarsi. Inoltre sviluppare la muscolatura può essere utile per riempire lo spazio che si viene a creare quando si fa una dieta. In questo modo la pelle si tenderà riacquistando l'elasticità.